Ripartiamo da questa partita, è un buon punto, è stata una partita molto combattuta, abbiamo reagito bene dopo il gol preso, è una squadra forte la Cremonese, ci teniamo stretto a questo punto, dopo le due sconfitte andiamo avanti. È molto difficile la Serie B, non bisogna sottovalutare niente, ogni palla, ogni partita è difficile e oggi abbiamo dimostrato, siamo andati sotto, abbiamo reagito come squadra, anche se era difficile ma siamo stati uniti come gruppo e questo è importante e penso che ci porterà a tanti punti. Avevamo voglia di riscattarci dopo le due sconfitte in casa, anch'io personalmente come giocatore ero in dovere di fare una buona prestazione e sono contento prima da parte mia e poi anche per la squadra e per il punto. Quattro parate belle diciamo ma quella più importante penso sia il colpo di testa su Vasquez che era anche difficile con il rimbalzo davanti ma mi sono fatto trovare pronto e niente. Io vado in nazionale quindi i ragazzi secondo me lavorano molto bene, rientreranno tanti giocatori come Esposito che sono contento del suo esordio anche di come entrato e sono sicuro che aiuterà tanto la squadra. Io andrò in nazionale e quando torno mi farò trovare pronto come oggi. Grazie a tutti.